L'Asla, Dipartimento di Prevenzione, mi ha comunicato di aver riscontrato tre nuovi casi di positività al Covid-19. I casi totali attuali salgono quindi a 5, lo fa sapere il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola. Per quanto riguarda i vaccini, sono 23.500 le dosi somministrate in totale tra prima e seconda dose, sottolinea Coppola. Sono 12.834 i concittadini che hanno effettuato almeno una dose di vaccino. Al momento si sta provvedendo a compiere solo richiami quindi il 5 e 6 agosto sono state convocate 700 persone per riprendere con le prime dosi. Confidiamo, conclude, di raggiungere una percentuale più alta al più presto in modo da affrontare l'autunno con maggiore tranquillità.